Musica Abbiamo qui con noi la presenza importante dell'artista Carla Di Lascio alla quale immediatamente chiediamo le prime impressioni e i propri sentimenti su questa serata. Beh sicuramente come sempre Italia in Arte voi come comando siete il top per l'organizzazione il sentimento più bello è l'emozione che ogni volta si riesce a provare in questa splendida città in questo meraviglioso teatro. Ringrazio Italia in Arte, tutto lo staff, l'organizzazione, la vostra presenza per quello che fate, per tutto ciò che è realizzato in favore dell'arte e per la società. Questa è la cosa più importante. È un sentimento unico, meraviglioso e indescrivibile. Grazie per le tue attenzioni e soprattutto due parole sulla tua arte se c'è qualche novità. Allora novità, la novità importante è che sto cercando di creare qualcosa a livello scolastico nel senso che vorrei riuscire a trasmettere qualcosa di più a questi ragazzi stare un poco più vicino al sociale e quindi vedere qual è il disagio nella società e trasformarlo in arte. Probabilmente sarà un messaggio che potrà essere letto in maniera diversa potrà arrivare meglio allo spirito. Molto impegnativo, i miei complimenti e grazie di essere venuta. Ci vediamo sul palco. Sicuramente, la ringrazio.